che ha difeso il proprio campo fino all'ultimo e farlo contro Udine non era affatto facile perché è una squadra che dopo tante difficoltà ha finalmente trovato un equilibrio e sta comunque rendendo ad altissimi livelli. Fortunatamente ieri hanno perso anche le dirette avversarie della Bondi e quindi tutto sommato la lotta salvezza non è poi così compromessa, anzi è ancora tutta aperta. Ma io vado subito a presentare gli ospiti di questa sera che ne abbiamo ben tre. Iniziando da Gloria Vian, capitano della Vigarano e poi al suo fianco un ritorno. Andrebbe una Cina vice della Palacaresta Ferrari, quindi vice di Adriano Furlani e poi esperto ciclista ma anche musicista e si occupa anche di basket Guido Foddis. Artista, io sintetizzerei. Mi hai scritto in scaletta Getro Talflautista. Ma quella è opera di Zambelli secondo me, io sono molto più serio. Quindi lasciamo stare. Andiamo a vedere i risultati di classifica ma prima mini spot regia. Il campionato sta davvero arrivando al termine, siamo alle ultime battute e vincere, battere Udine Dario sarebbe stato sicuramente una prova e avrebbe dato la salvezza quasi certa a Ferrara però questo non è accaduto. Però se andiamo a vedere i risultati delle altre che sono sicuramente lo stato di Chieti che ha perso da Verona questo ci conforta un po' perché la situazione di Ferrara è ancora non compromessa insomma è costa salvezza tutta aperta. Poi, quali altri risultati andiamo a vedere? Beh, quelli là in fondo li abbiamo visti guardo avanti, la prossima avversaria è Trieste è andata a sbancare Mantova confermandosi terza forza del campionato davvero una gran squadra e quindi una trasferta molto ostica per Ferrara vabbè, gli altri risultati secondo me sono un po' di contorno per quello che ci riguarda e attendiamo questo Ravenna Imola che si giocherà il giorno 5 dopo domani. Andiamo a vedere la classifica adesso arriverà, come dicevamo Ferrara è sempre lì a 22 punti però insomma la distanza sicuramente all'ultimo posto è sufficiente per non pensare ovviamente ad una retorzione diretta ci sono ancora da evitare play-out che insomma è un obiettivo, vero Andrea? alla portata ma che Ferrara non riesce mai da guantare. Esattamente, sì diciamo che chiaramente un occhio va tenuto sugli altri primariamente ma non solo perché vogliamo essere noi protagonisti del nostro destino già da Trieste che stamattino visto la partita ha fatto una prestazione incredibile a Mantova tirando anche bene da fuori e mostrando un atletismo di categoria superiore quindi non sarà di certo facile però con le grandi c'è una tradizione favorevole quest'anno quindi vorremmo provare a essere i secondi a sbancare il campo di Trieste. Eh beh, è bello senza confini ma bravo, è giusto pensare positivo. Chi invece ha passato il turno play-off Dario è la meccanica nuova di Vigarano. Beh, qui ci starebbe una standing ovation una ola solo che siamo in pochi per farla però davvero avete messo una ciliegina su una torta che già di per sé era importante non dimentichiamo che siete forse la squadra che rappresenta la cittadina più piccola io credo in assoluto dei massimi livelli quindi complimenti davvero Grazie, grazie mille. Come è maturata? Come? Come è maturata? Beh, è venuta un po' la volta siamo partite un po' arrancando e poi siamo riuscite a tirar fuori i buoni risultati verso il finale nonostante siamo anche noi a ranghi ridotti causa infortuni causa panchina corta probabilmente abbiamo fatto il risultato storico di Vigarano ovviamente è società nuova quindi ogni anno si può riprovare a migliorare il risultato dell'anno precedente ma siamo molto contenti la società è molto contenta perché abbiamo ottenuto quello che alla fine pensavamo di poter ottenere e adesso adesso vi divertite adesso siete così una linea vagante andiamo sicuramente con una mentalità di provare a fare il nostro meglio ovviamente l'avversario Schio che è una squadra creata per competere anche a livello europeo quindi sicuramente è molto più in forma di noi ne parleremo dopo di quello che verrà perché adesso è anche bello celebrare un po' ciò che è accaduto e credo che la fotografia la sintesi massima sia proprio quella di questo turno che avete superato Vigarano adesso non so con gli ultimi nati quanti abitanti faccia però Vigarano contro Torino sai da giocatrice è difficile anche rendersi conto quanto le persone siano orgogliose di Vigarano sono orgogliose di poter competere con città grandi come Torino Venezia Napoli sicuramente si percepisce man mano che vivi la realtà cioè alla fine il basket è anche bello per questo raccontaci un po' come è maturato questo passaggio del turno anche perché la prima partita l'avete vinta in volata certo anche la seconda l'avete faticato però insomma forse il passaggio del turno l'avete costruito in gara 1 possiamo dire così? beh in gara 1 onestamente nessuno si aspettava di vincere perché avevamo bruttissime statistiche bruttissime percentuali vuoi di cuore vuoi di rifa di raffa abbiamo vinto di uno e poi era importante conservare perché se andava a differenza Canesti era la gara di ritorno sai più uno non è niente però è sempre meglio che un meno uno e poi anche il ritorno abbiamo un po' tribolato però credo che il gruppo e la voglia di provarci abbia fatto la differenza Torino o noi siamo la bestia nera di Torino perché ho sempre vinto contro di loro nonostante ognuno ha le proprie bestie nere Guido tu ieri eri al palazzo vuol dire che Guido è una bestia nera? no detto così intanto è vestito tutto di nero intanto è quasi tutto di nero ho notato che però a noi ci riserva sempre un abbigliamento molto curato mentre sempre la giacca quando viene qui da noi almeno quest'anno no è che la tengo appoggiata qua dietro negli studi ed è nel mio armadietto quando sei in radio non ti si vede quindi si è posto ieri abbiamo pensato tutti che si potesse comunque nonostante tutto fare lo sgambetto a Udine che invece rischia di fare lo sgambetto a Mantua per i playoff beh Udine bella squadra a me è piaciuto da impazzire se devo fare l'esterofile parlare di Udine un quasi coetaneo mio un 75 Vanuzzo l'ha decisa lui ma non solo con il rimbalzo finale e il tiro della vittoria l'aveva già decisa prima non fa mai un movimento sbagliato insomma sono quei giocatori magari chiedo conferma al coach che davvero spostano la squadra più dei minuti che fanno anche nello spogliatoio tanto di cappello allenati bene certo come dicevate voi eravamo zoppi zoppi prima di scendere in campo per l'assenza di Moreno e zoppi ancora di più perché Roderi che quando è uscito con il quarto quinto fallo era il migliore era quello che in attacco dava i punti che alla fine è quello che conta e quindi insomma francamente non pensavo neanche vista la dinamica della partita di arrivare all'ultimo minuto con la partita in palio bravi noi a crederci ne parleremo noi adesso alimentiamo la discussione andando a sentire innanzitutto Fabio Bulgarelli il presidente un live motive ormai quante ne abbiamo commentate così tante ma intanto bisogna fare onore ai nostri ragazzi perché comunque ci hanno dato anima e corpo perché in così pochi devo dire che abbiamo lottato fino all'ultimo quindi non si può dire niente sull'impegno sulla sconfitta io sono il presidente e non posso dire quello che penso vorrei dedicarla a qualcuno ma non posso indovinate a chi comunque dai per farsi voler bene bisogna anche volersi bene prima di tutto noi facciamo di tutto per non volerci bene quindi in questo momento sicuramente siamo aditati come una squadra fallosa come una squadra che ci mette del proprio oggettivamente non abbiamo visto un arbitraggio casalingo però un po' ce li andiamo a cercare anche noi io non sarei così come posso dire non abbiamo perso per gli arbitri questa sera abbiamo perso perché ci auto eliminiamo come sempre quindi mi dispiace ma anche questa sera fortunatamente i risultati ci danno favore delle altre avversarie però anche stasera secondo me l'abbiamo persa sempre per i soliti motivi cioè finché non giochiamo al completo già siamo cortini e poi ci auto escludiamo avevamo detto in spogliatoio non parliamo assolutamente con gli arbitri questa sera proprio sono andato io personalmente a dirlo infatti abbiamo parlato con gli arbitri abbiamo preso il quinto fallo abbiamo fatto due falli un po' stupidi con Pellegrino si possono fischiare non si possono fischiare sicuramente non è un arbitraggio casalingo e sicuramente non ci stanno tutelando noi giochiamo su due squadre che sono Imola e Chietti e fortunatamente da sotto non vengono su quindi finché va così va bene è chiaro che ritorno al discorso di prima se fossimo al completo sarebbe molto meglio mi dispiace perché i ragazzi ci danno anima e cuore ma certi giocatori non capiscono proprio l'importanza di non fare cavolate continuiamo a fare cavolate quindi la partita la sconfitta la dedico a quella persona che ha fatto la cavolata ecco in sala stampa ieri c'è stato un po' di ci si è guardati un po' negli occhi dopo che il presidente se n'è andato perché qualcuno sosteneva che l'imputato fosse quello che la cavolata l'ha fatta ieri che è stato Roderick qualcuno sosteneva invece che era quello che di cavolate ne ha fatta una serie infinita che è Moreno io li metterei tutti e due sul banco degli imputati certo che far quadrare i conti in questo contesto qui non è facile né in settimana né tanto meno in partita io sto col pres da un lato e a conferma di ciò vi do due dati uno su 15 in due da tre punti per i nostri tiratori che sono cortese e mastellari e 14 su 22 e liberi la cultura degli alibi è un bello sport in Italia di certo c'è un mirino puntato su di noi è innegabile dall'altra parte noi siamo sempre lì in un modo o nell'altro vicini agli arbitri quindi potevamo vincere a prescindere da tutto e questo avvalora ancora di più la partita di cuore di animo dopo un approccio un po' soft che abbiamo fatto non era facile però ci è mancato poco ripeto andiamo a Trieste dove l'arbitraggio non solo non è casalingo ma è un arbitraggio all'inglese contatti aggressività mani addosso quindi insomma dovremmo dare una risposta da quel punto di vista e non potrà essere quella delle proteste insomma ci vuole un metro e un metro che sia uguale per tutti e che sia uguale tutte le domeniche sì è vero un metro che secondo me non è stato molto rispettato ieri o meglio è stato un metro per Rudine un metro per Ferrara e Dario andiamo a vedere l'episodio che ha così generato l'espulsione la cavolata che si è nata l'espulsione di Roderick che è vero che ha protestato in modo plateale questo il fallo per carità c'era e Roderick ha fatto ha semplicemente incrociato le braccia magari avrebbe detto anche qualcosa però non ha fatto niente di più di quello che hanno fatto tutti i giocatori di Udine durante la partita ovvero un normale dialogo ma poteva essere anche uno sfogo con se stesso non è stato plateale noi l'abbiamo interpretata così si è visto di molto peggio da altri giocatori in campo ma nella stessa partita se vogliamo Coi a fine secondo quarto per un non fischio presunto episodi che allora dovremmo fiscare dieci tecnici a partita esatto quindi non lo meritava poi gli arbitri sapendo che era il quinto gli arbitri hanno voluto fare i fenomeni hanno voluto fare i protagonisti hanno sciuppato la partita che pure però è stata bella fino alla fine meno male onore ai vostri meriti e a quelli di Udine mi sono dimenticato di dire Dario in apertura che mentre noi siamo qui in diretta a Napoli una squadra di Ferrara ovvero la Vis Under 20 sta giocando il concentramento regionale per sta andando alla ricerca della qualificazione intanto vediamo le immagini dal pala barbuto di Napoli sta cercando la qualificazione alla finale nazionale ricordiamo Under 20 campione italiano dell'anno scorso squadre divise 12 squadre divise in tre gironi e passeranno sei quindi le prime due stasera Ferrara gioca contro Pesaro nello stesso girone c'è Moncalieri e Milano 3 esatto e mi è appena arrivato un messaggio dal presidente della Vis che dice che Ferrara è sotto di 9 all'intervallo quindi comunque si sta difendendo contro la VL Pesaro che insomma Andrea cosa dici? La squadra quotata con un 99 di profilo nazionale come Serpilli che è nel giro della prima squadra insomma grande tradizione però i ragazzi che ho il piacere insieme ad Adriano di allenare quotidianamente perché con noi girano sia gli under 20 di annata cioè 97-98 che gli under 18 in 99 li conosciamo li vediamo e hanno sicuramente le carte in ragola per far bene e perché no arrivare alle finale nazionali Cosa dici? Uno dei due posti nel girone possono Secondo me PMS è favorita in questo girone per Blasone qualità del roster secondo me questa può già essere una sfida decisiva con Pesaro certo poi vorrei aggiungere che sempre a Napoli in questa manifestazione c'è anche un ferrarese doc anche se ha un cognome americano Tatu Ebeling in forza a Sassari ma credo che giochi non con Sassari è anche lui in queste finali per cui abbiamo anche un nostro illustre concittadino figlio d'arte cui auguriamo di fare veramente tanto bene abbiamo sentito anche Federico Pasquini il suo allenatore a Sassari la settimana scorsa che ci diceva che l'anno prossimo lo vogliono mandare in Serie A2 a fare esperienza a Ferrara adesso stavo per dire c'è la Serie A2 è chiaro che bisogna sempre aspettare l'ultimo momento per avere le conferme però insomma Ferrara potrebbe anche proporsi vedremo qui durante la puntata vi daremo gli aggiornamenti di quello che sta accadendo fra Vison Power Caricento contro WL Pesaro siamo giunti al primo time out regia pubblicità eccoci siamo di nuovo in studio stiamo parlando con i nostri ospiti di quanto è accaduto nel weekend Mauro cosa dici andiamo a sentire quello che ti ha detto Adriano Furlani al termine della partita sì Adriano Furlani molto tranquillo ma direi che questo è il suo nuovo corso un Adriano Furlani molto più peccato molto più in sintonia con la squadra sentiamolo comunque io Adriano mi sentirei di partire dai complimenti per la tua squadra perché questa sera in un contesto molto complicato già in partenza avete espresso secondo me a parte il primo quarto una partita importante che meritava i due punti poi sono successe mille cose ma guarda è mia abitudine non entrare nello spogliatoio finite le partite questa sera ho voluto farlo dopo un pochino perché ho voluto rendere omaggio ai miei ragazzi tanto di cappello perché nella situazione in cui eravamo per giunta nella situazione che si è aggravata cammin facendo essere riusciti a competere punto a punto e loro hanno dovuto mettere una bomba di tabella un'altra bomba con l'uomo addosso l'ultimo tiro tra i punti con Vanuzzo hanno dovuto mettere tre tiri da tre difficili noi alcuni tiri aperti non li abbiamo messi loro bravi noi grande cuore non è bastato non avevamo la lucidità per cercare le giocate in funzione di chi dovevamo sfruttare poi sicuramente grande grande fatica grande intensità ma grande fatica alla fine siamo arrivati sicuramente non lucidissimi e il cuore non è bastato a proposito di pagare si è forse pagata un po' anche questa prevenzione che ormai sembra essere entrata in circolo per episodi accaduti nel corso della stagione sono contento di questa domanda perché è una cosa che io che sono sempre stato un po' vulcanico un po' estrionico sicuramente ci ho messo del mio nel passato con una squadra così ho cercato di limitare le mie proteste le mie sceneggiate i miei tecnici le mie espulsioni però adesso siamo additati come una squadra di psicopatici appena uno di noi si muove viene additato no viene sanzionato con dei falli tecnici che onestamente mi sembrano mi sembrano esagerati io dicevo all'arbitro va bene allora se questo è il vostro metro io vi faccio avere siccome gli arbitri hanno una una discussione continua con gli allenatori vi faccio avere una serie di clip di giocatori importanti dal grande passato che protestano e non li sanzionate neanche a massimo li richiamate da noi basta che uno fiati basta che uno e vi garantisco che stiamo facendo uno sforzo notevole per cercare di calmare questi bollenti spiriti non ultimo questi ragazzi ci rimettono anche un sacco di soldi a forza di questi tecnici per cui non è che lo facciano così gratuitamente io non condivido questo atteggiamento questo metodo arbitrale non condivido soprattutto questa prevenzione che c'è nei confronti della Pancristo Ferrara beh sì in effetti tranquillo Adriano Forlani Andrea state lavorando aspetta che c'era Guido che stava dicendo stava facendo dei gesti quindi subito ma non lo riconosco più è un soldi sembra Phil Jackson questo non è cosa state facendo per calmare i volenti spiriti beh cerchiamo di dialogare di avere un colloquio sempre aperto con tutti i ragazzi Adriano ci sta riuscendo in maniera particolare dopo di che c'è anche l'intervento della società sul portafoglio dei giocatori come ha detto il coach però è chiaro che giocare col mirino puntato anche mentalmente non è facile e purtroppo si vede in quest'ultimo periodo quindi senti con Adriano Furlani una bella sintonia direi fin dall'inizio da subito sì fin dalla prima partita con Mantua dove l'ho ringraziato mi ha mandato in conferenza per aver a suo dire preparato la partita con lui arrivato in settimana un bel feeling insomma che ci piacerebbe continuare ecco insomma chiaramente non dipende solo da noi però di sicuro una piacevole scoperta in più mi avevano detto e parlato di un coach vulcanico e invece trovo una persona molto equilibrata molto coerente e i giocatori sono tutto forche stupidi e si accorgono dal primo secondo se tu sei sincero e mantieni le promesse insomma e sei coerente con quello che dici io credo che Adriano abbia fatto un bel lavoro su se stesso per smussare qualche spigolo che a volte è stato anche controproducente però insomma che sia un grande allenatore questo lo hanno sempre detto e sottolineato tutti quanti Mauro sarebbe giunto il momento dell'up and down sono pronto sono pronto e anche contro Udine una certezza è stato questo signore qui ovvero Lawrence Bowers 29 punti grande presenza solo qualche passaggio a vuoto però dare la palla a lui è sempre una certezza e anche in difesa non se l'è cavata male sotto canestro ma anche un po' fuori chi invece non mi è piaciuto purtroppo per le cose che ha detto prima Andrea Bonaccino ovvero le cifre al tiro è stato Capitano Cortese che però nonostante tutto lo diciamo ha giocato nonostante cattive condizioni fisiche quindi è vero che pollice verso per lui solo per la pessima media da tre punti giusto Andrea? esatto sì in dubbio fino a domenica pomeriggio ha fatto un lavoro incredibile con tutto lo staff dal doc Mario Capozza al baffo per preparare il ghiaccio e tutto insomma un lavoro certosino una grande disponibilità l'abbiamo avuto nel terzo quarto quarto ci ha anche rilanciato da un certo punto di vista sotto profilo emotivo chiaro che ha sbagliato dei tiri aperti che può fare anche su una gamba sola quindi piccola bacchettata insomma anche per lui sì io il pollice verso l'avrei dato a Moreno perché Moreno ma non c'era però era a bordo campo lo stesso gliel'avrei dato però lo puoi fare adesso gliel'avrei dato per quello che è costato a questa squadra che forse sarebbe il playoff o sarebbe lì per lottare per i playoff se non ci fossero stati questi intoppi causati da lui e che invece sta tribolando in zona play out sempre a causa di questa condotta irresponsabile dentro il campo perché fuori è un ragazzo straordinario io ne approfitto per leggere un messaggio abbiamo dato risposta a un ascoltatore che ci chiedeva Cortese non era infortunato sì l'abbiamo detto è stato recuperato in estremis e poi un altro messaggio che ringrazia Cortese per aver dato tutto nonostante fosse malconcio ti rivolgiamo anche l'anno prossimo a Siamolinaro che ieri ha fatto secondo me un'ottima prova difensiva peccato perché non è riuscito da tre ad attaccare e un altro messaggio dice se ci mancheranno i punti salvezza dovremmo ringraziare il signor Moreno e le intemperanze di Roderick tutto vero tutto da sottoscrivere allora torniamo a parlare invece di una squadra che ha vinto ma che ha vinto in senso molto più grande voi subito in campo non aspetta il calendario no domani quindi gasatissime domani sera domani sera 8.30 a gara 1 e poi venerdì in casa alle 8 se non sbaglio al Palavigarano un bel pienone al Palavigarano speriamo bene e poi credo che la mission sia cercare di vendere cara la pelle nella taglia del drago esatto sicuramente uscire a testa alta da questa e magari non uscire ma però sicuramente fare il nostro meglio insomma cosa vi siete dette tra di voi dopo l'exploit il doppio exploit con Torino ma eravamo veramente contente e euforiche perché comunque secondo me anche per noi è stato un po' inaspettato perché ci ha tenuto l'americana Littles fuori all'ultimo e quindi abbiamo dovuto un po' inventare e riadattare i ruoli e quindi una volta vinta questo sicuramente abbiamo detto vabbè adesso ci divertiamo e pensiamo a giocare tranquille senza paura insomma speriamo bene sì sì ma ormai voi il vostro lo avete fatto quindi tutto quello che arriva adesso è grasso che cola invece il futuro della Bondi Guido è chiaro che si aspettano anche i risultati degli altri campi però credo che la cosa migliore sarebbe quella di vincere con le proprie vittorie di la salvezza assolutamente sì però se non arriva con le nostre vittorie va bene anche con le sconfitte degli altri quindi sottoscrivo tutti e due i discorsi ieri tanta tensione vedevo il pubblico del Palaiton Pharma dopo la sconfitta con Udine non andava via guardava lo smartphone erano tutti lì a vedere il risultato appunto di Chietti hanno calendari complicati ne parlavamo anche prima insomma la fiducia la fiducia c'è anche perché onestamente buona parte dei nostri punti li abbiamo fatti contro pronostico li abbiamo fatti in trasferte assurde assurde nel senso perché giocavamo con squadre molto più quotate e i passi falsi sono stati spesso in casa contro concorrenti diretti quindi è un campionato un po' pazzo è il momento sicuramente anche per tutti i tifosi di stare vicini alla squadra non di le critiche si fanno dopo bene alta tensione anche in serie B Mauro per un finale di stagione che si preannuncia incandescente stiamo parlando di 100 si che purtroppo sabato sera ha perso a Piacenza una gara contro un'avversaria di livello tu che conosci quella zona cosa dici della Bakery era uno scontro che valeva una buona fetta di terzo posto in un girone forse nel girone più competitivo della serie B statistiche alla mano la Bakery ha vinto con merito però 100 alle carte in regola per essere un po' un diesel poi la serie B è un campionato estenuante lunghissimo dove conta più come arrivi da metà maggio in poi che quasi tutto il cammino precedente quindi pazienza lucidità che so che a 100 non sono spesso ben viste ma tempo al tempo e sicuramente con il recupero degli infortunati sapranno dire la loro in un playoff che si preannuncia agguerritissimo andiamo a sentire il servizio sulla Baltur 100 la Baltur 100 perde la sfida di Piacenza 85 a 71 e deve dire addio al terzo posto in classifica se le sconfitte con Desio e Costa Volpino erano arrivate per una modesta prestazione dei Biancorossi quella di sabato sera contro la Bakery è da attribuire sicuramente più ai meriti degli avversari che ai demeriti della Benedetto un pessimo secondo quarto perso da 126 a 9 ha compromesso la gara dando la possibilità a Piacenza di staccare gli ospiti in modo deciso tenendo sempre in pugno la gara fino alla fine l'incapacità di fare canestro della Baltur ha sicuramente pesato in una sfida dove si sono affrontate due squadre di alto livello e entrambe con ambizioni di vertice in una fase della stagione in cui vincere avrebbe dato sicuramente una iniezione di fiducia più che vantaggi reali alla Baltur coach Benedetto all'indomani della sconfitta la prende con filosofia e guarda avanti arrivare terzi o quarti cambia poco ha fermato il coach certo dispiace perdere soprattutto davanti ai tanti nostri tifosi ma ora dobbiamo continuare a lavorare e acquisire fiducia in vista dei playoff stanno arrivando tanti messaggi Dario un telespettatore ti dà ragione sul pollice verso Moreno quindi evidentemente un po' l'umore dei tifosi è questo arriva però un'altra domanda che giro subito ad Andrea Bonacino ovvero l'unica soluzione è dare palla a Bauer se non si può trovare altre soluzioni in attacco sicuramente no chiaro che Lorenz è in questo momento il nostro terminale principale merito a lui e merito a chi lo mette in ritmo cioè i compagni però Cortese cifra la mano il miglior italiano di questa Lega 2 Roderick riempie forse più di chiunque altro le statistiche in questo campionato e Moreno è credo il secondo miglior assistman di questa Lega partite saltate a parte quindi sicuramente il nostro quintetto è un quintetto di livello compreso anche l'alterno ma dotato Ciccio Pellegrino e quindi non siamo sicuramente monocorde offensivamente noi facciamo andare in tempo ad andare a vedere gli highlight della gara di ieri curati come sempre da Pietro Zambelli balla lunga per Roderick gran assist per Bowers full appoggio a cristallo tap in il più lesto è Traini lo scarico per Pinton ancora a segno ora Ferrara deve andare al tiro ci va da 8 metri Mastellari riceve Roderick si prova a involare fanno la caccia e schiaccia Terence Roderick poi c'è l'Areup di Molinaro Molinaro Mastellari Bowers finge il tiro Zacchietti si addormenta e Bowers lo punisce Mastellari parlando parlando dei giovani della Viss impegnati nell'interzona Napoli ma anche della sconfitta di ieri della Bondi nonché del secondo tour playoff imminente della meccanica nuova pronte preparate pronte a sedere in campo il sogno è quello di mettere in difficoltà una corazzata come Schio giusto? pronte siamo pronte siamo ancora nell'onda dell'entusiasmo quindi speriamo che duri questo entusiasmo di fare il meglio possibile la chiave quale potrebbe essere per mettere dei granelli di sabbia nell'ingranaggio così ogliato un'epidemia a Venezia puntare magari sul fare della confusione non fargli capire le cose perché loro sono molto molto brave a punire le decisioni difensive le letture quindi puntiamo sul caos diciamo e poi sulla voglia di fare sicuramente il Leicester insegna che bisogna crederci ai miracoli perché si compiono vedo che ridi Guido mi viene in mente una delle tante leggi di Marfi se non li convinci confondili questo potrebbe essere il motto da lavagna tattica esatto tra l'altro tu che sei nata nelle giovanili di Venezia senti particolarmente questa gara o è una come tutte le altre? ma è sempre stato il derby per eccellenza comunque sempre nonostante in qualsiasi anno ho vissuto con una consapevolezza che Schia avesse quella marcia in più diciamo a livello di squadra proprio quindi tu sai già che vai a giocare contro il più forte quindi tra virgolette sono loro quelle che andano a perdere di più quindi da un lato giochi molto più tranquillo secondo me esatto molto bene tra l'altro tu eri a Venezia nel periodo in cui c'era anche un nostro grande amico che salutiamo Andrea Pulidori ora di S100 che ricordo hai di questo personaggio straordinario? ma io comunque ero giovane diciamo intorno tra i 16 e i 18 quando c'era anche lui sicuramente ci davamo una mano a noi giovani come idea di che futuro su come lavorare ma io me lo ricordo sempre a bordo campo durante le partite a inveire contro gli armi ma dai non avremmo mai detto c'era proprio il suo posto sotto canestro bene noi adesso andiamo a sentire un altro dei protagonisti di ieri molto bene in chiave difensiva un po' meno in chiave offensiva ma credo faccia parte delle sue corde purtroppo a Napoli la Viss ha perso 76 a 53 quindi il secondo tempo non è stato favorevole ai biancoazzurri ti interrompo con la breaking news no no hai fatto benissimo per questa news avremmo preferito un esito diverso comunque in bocca al lupo i ragazzi bravissimi fin qui andiamo a sentire Molinaro Lorenzo al termine di questa gara quanto sei arrabbiato? abbastanza abbastanza poi in più la tensione di aver giocato così tanti minuti magari in un ruolo che non è proprio il mio c'è tanta tanta amarezza un altro finale che non ci ha sorriso chiaramente non possiamo essere che arrabbiati con noi stessi tanti ragazzi fuori negli ultimi minuti giocavamo veramente in pochi rispetto a quelli che possiamo essere parlo magari per quello che è successo a Jan o a Terence che è stato si è giocato il quinto fallo in quel modo lì poi anche Pellegrino che non c'era nell'ultima parte di partita secondo me ci ha dato poco fiato abbiamo pagato gli ultimi minuti chiaramente con errori difensivi e non siamo riusciti a essere lucidi in attacco per vincere e portarla a casa senti vi sentite un po' tartassati al di là delle vostre colpe che nella maggior parte degli episodi che ha visto coinvolti i giocatori della Bondi sono legittime ma oggi vi siete sentiti un po' tartassati ma è difficile esprimersi perché chiaramente l'arbitro fa quello che deve fare non penso che siano facciano apposta insomma però chiaramente alcuni fischi evidentemente ci hanno fatto sentire in questo modo insomma un po' tartassati un po' penalizzati come dici tu magari una sequenza di cose che ci portano a essere tartassati in questo modo se uno si comporta in un certo modo fino a questo punto poi stanno lì a guardarci evidentemente dovremmo essere più lucidi in alcuni momenti adesso il calendario vi manda a Trieste non banale è un campo molto molto difficile sono molto bene loro in campionato stanno facendo un anno molto molto bello in una realtà che chiaramente vive anche di basket sarà una partita molto difficile cercheremo di essere a completo questa volta e giocare le nostre carte sappiamo di poter battere anche le più forti e quelle più in ritmo sta a noi di nuovo non fa una piega Andrea al di là del terzo posto in classifica che fotografa come meglio non si potrebbe la situazione Trieste i suoi punti di forza l'atletismo e la difesa su tutti giocatori due americani in campo aperto devastanti cercano sempre l'anticipo per andare a schiacciare di là Prandine e Coronica due uomini in missione che sicuramente già hanno Rodrik nel mirino poi da Ross come collante insomma una corazzata in più i cittadini sta anche segnando la tre in questo momento quindi la classica partita perfetta per noi proibitiva sulla carta esatto le squadre che piacciono a Guido Foddis beh insomma Trieste comunque è una di quelle squadre che non si capisce bene cosa ci faccia in A2 per bacino d'utenza storia d'altronde l'abbiamo detto un sacco di volte questa A2 non so se qualcuno ha mai provato a vedere magari tornando a casa dalla Bondi su canale nazionale l'A1 ma il vero campionato è questo e Trieste secondo me è una squadra che andrebbe ai playoff in A1 almeno per la come si può dire c'è una parola napoletana che va molto di moda la grinta la grinta perché io nei fattori metto anche il catino di andare a giocare a Trieste non è mai semplice fattore campo se ce n'è uno insieme a Bologna è Treviso probabilmente in questo girone e a proposito di pubblico diciamo che i tifosi stanno organizzando un pullman per la trasferta di Trieste leggete nei messaggi il numero di Veronica per dare l'adesione bene noi adesso andiamo a sentire ancora Adriano Furlani i due punti della staffa della fine di un incubo arriveranno arriveranno prima o poi allora guarda quando sono entrato nello spogliettore sono entrato anche dopo aver appreso i risultati delle altre squadre c'è tanta amarezza per questa sconfitta però ci deve essere anche qualcosa di positivo abbiamo letto qualcosa di positivo vale a dire ultimi matematicamente non ci arriviamo più e questo è già un primo passo poi qualche luna ha perso per cui diciamo che la classifica rimane invariata ma siamo siamo però e questo è quello che voglio che capiscono i miei ragazzi è che non mi piace che ci salviamo rincorrendo i risultati negativi degli altri noi vogliamo salvarci prendendoci il merito di quello che abbiamo fatto in questo lasso di partite perché abbiamo fatto veramente delle cose importanti e oggi stiamo facendo una cosa forse la migliore di tutte ci è mancato poco grande ramarico e ci riproviamo alla prossima bene Gloria siamo proprio nelle battute finali della puntata direi molto brave voi in campo a conseguire questo obiettivo però io direi un bel applauso anche alla tua società perché non è facile mantenersi a questi livelli in un contesto così difficile sicuramente hanno fatto un gran lavoro appunto perché il periodo anche economico è quello che è e seppur è una società piccola riesce sempre a magari scegliere le persone giuste fidarsi le persone giuste anche col vice allenatore che poi è passato primo abbiamo proprio fatto un salto di qualità quindi nulla da dire speriamo bene che bene il capitano resterà Vigarano queste cose non si possono sono sempre il marcato è sempre bisogna prima finire il campionato non voglio giusto giustissimo era una domanda osè rispondere cortesia speriamo si dice speriamo ecco dipendesse da te rimarresti certo ecco questo era il mio obiettivo noi andiamo a sentire Teo Gianluca Teodorini l'angolo cult di Baschettini grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti sempre emozionanti le immagini di Gianluca Teodorini Dario a proposito di mercato sono andati un paio di messaggi che ci chiedono l'Umi sul futuro di Ferrara ancora non si sa nulla su cosa possa fare il presidente a fine stagione intanto c'è da conquistare abbiamo qui Guido Foddis che adesso fa le carte al basket ferrarese legge le carte sul futuro del basket ferrarese questa è una domanda veramente scorretta scorretta perché se anche dicessi la verità potrebbe essere una risposta brutta se dicessi una cosa bella potrebbe essere una bugia non lo so neanche io me la cavo così non possiamo chiederlo ad Andrea Bonacina men che meno a Gloria Vian se non ci sono altri messaggi non ci sono altri messaggi noi siamo in chiusura tu la partita di Trieste Guido come la ipotizzi? una garra una torcida vamos a ganar almeno un grande moreno ce lo aspettiamo perché con la coscienza che ha no ma se non è la sua partita quella ragazzi di sicuro un grande Jan andiamo a giocarcela poi forse potreste anziché multarlo se prende tecnico si potrebbe dargli un premio se non lo prende chissà forse poi non glielo date però intanto glielo dite vediamo bene vogliamo fare l'in bocca al lupo a Gloria ma alla squadra alla società quel che arriva arriva in bocca al lupo Gloria siamo giunti al termine di questa puntata di Baschettini io ringrazio i nostri ospiti tutti da Gloria Vianna Andrea Bonacina e infine anche Guido Foddis pronto a partire per il giro però prima seguirai esatto seguirai il campionato di A2 nonché la SPAL dopo di noi ovviamente le lunedì sport si parlerà della ristrutturazione del Paolo Mazza ma anche della gara di domani sera della SPAL contro Novara noi saremo qui puntuali lunedì prossimo ad aspettarvi per parlare della sfida della Bondi a Trieste grazie e buonasera